Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, nuova serie, signori, io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su un retro gaming, signori, inizieremo una nuova serie, ovvero andremo a fare la Master League, signori, il campionato Master su Ispro 2, gioco per Playstation 1, signori, gioco che ai tempi mi ha fatto sclerare non poco, ma anzi molto, abbastanza, se deve dire, perché non ci riuscivo, signori, sono impedito che ci volete fare, ma dopo tanti anni torneremo a giocare, cercheremo di vincere, ci proveremo quantomeno, allora non perdiamo tempo, campionato Master, nuova partita, allora noi dobbiamo fare una stagione piena, per forza, sono opzioni che non si possono cambiare, partite di 10 minuti, livello della difficoltà del computer possiamo fare normale o difficile, andiamo sul normale perché io già faccio schifo così, col difficile sarebbe ancora più complicato, allora, la squadra iniziale che dobbiamo scegliere, una vale l'altra, signori, perché fondamentalmente poi la squadra te le inserisce lui, i giocatori te le inserisce lui che poi tu li andrai a cambiare, allora, abbiamo il Manchester, l'Arsenal, il Chelsea, il Liverpool, il Leeds, il West Ham, il Barcellona, il Real Madrid, il Valencia, il Monaco, il Marsiglia, l'Ajax, l'Inter, la Juventus, poi abbiamo, Buenos Aires, che penso sia il River Plate, Rio de Janeiro, se non c'è un nome, lo ricordo in questo momento, aiutatemi nei commenti, il Bayern Leverkusen, il Bayern di Monaco, il Borussia Dortmund, la Roma, la Fiorentina, il Parma, la Lazio e il Milan, allora, signori, io ero un attimino indeciso, volevo iniziare con la mia squadra, ovvero con l'Inter, però sarebbe stato troppo facile e poi avremmo fatto fare una brutta figura all'Inter, sinceramente non mi andava, sono deciso di iniziare con la Roma, signori, la Fiorentina, il Parma o la Lazio, no, vada per la Roma, signori, dai, così ci giochiamo i derby, sì, tra Roma e Lazio, per il rischio a Roma, allora, e noi partiamo dalla Serie B, quindi la andiamo a mettere lì, che squadra mettiamo nel nostro, nel nostro campionato? Allora, io andrei, cercherei squadre un pochino più abbordabili, tipo il Rio de Janeiro, lo andiamo a mettere qui, il Leverkusen, questo tutto è forte, il Dortmund sembra un pochino più scarso, ok, questo lo faccio off camera, signori, così mi studio un attimo bene le squadre e ci vediamo quando siamo pronti a iniziare con la prima partita. Ok, signori, abbiamo completato tutto, abbiamo completato tutto, proseguiamo, sì, noi ci siamo messi la Roma, il Borussia Dortmund, la Fiorentina, il West Ham, l'Ajax, il Parma, il Rio de Janeiro e quello, e l'Arsenal, sì, tutto il resto prende le teste di sede delle squadre più potenti o forti, in teoria le abbiamo messe sopra, ci riusciremo? Non lo so, signori, con gamma e sangue freddo, noi ci proviamo e vediamo un attimo cosa esce fuori. Partita inaugurale, campionato master di serie B, dovrai affrontare le più famose squadre del mondo, portare la tua squadra in testa al campionato, ok. Allora, bene, la prima partita che noi ci andiamo a giocare è contro il Rio de Janeiro, perfetto, perfetto, quindi il Rio de Janeiro, Parma, Arsenal, Borussia Dortmund, Fiorentina, West Ham e Ajax. Queste sembrerebbero le nostre prime, i nostri primi incontri. Questo è il turno successivo, quindi infatti Roma-Rio de Janeiro, perfetto. Questa è la sezione dei trasferimenti, ovvero, queste va bene, sono i giocatori delle varie squadre. La nostra squadra è fatta da Ivanov in porta, Stromer, difesa con Stromer, Duric, Valeri, centrocampo con Jorga e Cellini, Esternix, Menes e Spinas, Miranda trequartista e Castello e Bolatta, che non me lo ricordo, è Bolatta, in attacco. Poi abbiamo Cecil, Vorlander, Eddington, Nactagal, Hertie, Matt, Ostwald, Burchette, New York, Juggins, Kelsen e basta. Ottimo, ottimo. Bene, bene, invece così dovremmo poter fare il mercato. Ah no, questi sono i numeri di maglia, ok. E i giocatori della mia, della Roma-Reale, dove stanno? Questi sono gli altri, questi sono i nazionali, 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 modificato. E sono questi? Freelance, sono questi? Ma penso di sì, D'Agostino, Blezzi, Tonic, Blezzi, Zanatti, Assenzao, Tomazzi, Rigorio, Minguini, Di Frasco, Junior, Pozzi, Lupatelli. Bene, bene signori, ma Totti ci sta? Scusate, mi presento un attimo l'Italia, ci sta Totti? Cioè, Totti, ok, Totti ci sta. Dobbiamo solamente, costa 32, bene, non lo compreremo mai nella vita, signori. Bene, bene, torniamo indietro e andiamo alla prima partita, signori. Procedere al tuo incontro successivo? Sì, siamo sicuri, siamo sicuri e decidi. Procediamo al prossimo incontro. Signori, io non tocco questo gioco da anni, ho fatto una partita prima per capire un attimino il giochino. Capiamo un attimino la nostra formazione? Allora, formazione. Noi siamo quelli di lì, ok, giochiamo con un 3, 2, 3... Mamma mia, che formazione brutta. No, 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 che cos'è questa formazione lì? Mi dai un 4-4-2? No, voglio giocare... Ma non vorrei giocare così, scusami. Vabbè, giochiamo intanto così, signori, mi dà più copertura questo modulo così. Cambia giocatore. Allora, Stromer, Luric... Devo capire un attimino come funzionano nei vari tasti. Ok, allora, Ivanov è completamente giù. Valery è completamente pure giù. Ma Valery gioca sulla... Yorga. Ok. Ciccellini, Ximas, Spimas, Miranda, questa è... Vabbè, dai, cerchiamo così, signori. Chi... È la prima partita, siamo giustificati. La prima partita bisogna essere sempre giustificati, signori. E noi ci andiamo a vedere pure l'entrata in stadio, signori. Roma contro Rio de Janeiro. Che cazzo è la scuola di Rio de Janeiro? Sabe che non me lo ricordo? Beh, lo scopriremo prima o poi. Va bene. E mezzo di telecronica mi ha rotto le scatole. Dai, forza, 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 signori. Si fa sul serio, si fa sul serio. Prima partita del campionato. Ok, si parte, si parte, si parte. Esfimas, 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 Esfimas. Sulla corsia di destra, Esfimas. Lento come poche cose al mondo, Esfimas. Va bene, va bene, ce la facciamo. Ce la facciamo, signori, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Dai, 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 recupero il pallone. Dai, Cellini, Cellini, Cellini. Va bene, va bene, Jorga. La manda via, Jorga, non riusciamo a tenere il pallo. Bello così, Esfimas, Esfimas, Esfimas. Miranda, buttate giù. Le proteste della panchina. Tutto questo, dai così. Bravo, bravo zio. No, no, cazzo, no. Non ha rimesso la terra, no, è grandissimo Duric. Duric, Ducic, scusatemi. Ducic, vede Ximenez. Se vede Ximenez che accetterebbe, vede Miranda. Miranda, 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 Miranda. Accelera, Miranda, mannaggia. Dobbiamo aprire di più un gioco sulle fasce. Dobbiamo aprire di più un gioco sulle fasce. Grandissimo l'intervento di Ducic. Bolatta. Bolatta, Bolatta, Bolatta è partito. È partito Bolatta, signori. È partito Bolatta. È partito Bolatta. Io non mi ricordo come cazzo la si tira. Bolatta! Dai, dai, dai. Vediamo, vediamo, dai. Non è andata proprio lontanissima. Non mi ricordo come cazzo la si tira. Però va bene. Va bene, superfa. Lo scopriremo partita dopo partita. Dai così. Bello il tocco. Mannaggia. Miranda, Miranda, si è fatto ingannare. Attenzione, attenzione. Recupero, recupero. No, 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 no. Che triangolazione brutta. Che triangolazione brutta. Fuori sto pallone. Signori, signori, signori. Canto sangue, credo. Canto sangue, credo. Leva in stavola. Leva sì. Non ti fa superare. Non ti crea. Grandissimo Ducic. Ducic, un pilastro alla difesa, Smir. Che parte sulla fascia. Parte lui. Parte Ducic. Parte Ducic sulla fascia. Non lo ferma nessuno. Non lo ferma nessuno. Ducic. 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 Oh! Balotta, balotta. Mannaggia a te, balotta. Buttala fuori, zio. Va bene, va bene. Balotta mio, che cazzo l'hai fatto. Che erroraccio, balotta mio. Balotta mio. Ti sei fattendo, ti ci vai sul più bello. No, no, Espimas. Espimas. Giorga. Giorga, il raddoppio di mancatura. Nessuno di due è riuscito a fermare. Grandissimo questo intervento. Signori, non lo so. Gli vogliamo fare giocare da soli. Dai. Siamo sotto 1-0. Gol di Felipe. E... Ma che sono un gol ridicolo. da un'azione di possibile gol di vantaggio che Balotta si è addormentato proprio su quella fascia. Attenzione, perché Castello... Castello è finito il campo. Castello mio. Castello mio. Il campo finisce. Non è eterno. Castello mio. Dai, dai, facci. Mannaggia. 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 Calma, 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 calma. Non riusciamo a fare la palla. Giorga, gli orpa, gli orpa. Ma dei giocatori che non è che sono lenti di più. Perché non riusciamo ad andare sulle prime palle? Riesce a recuperarlo, sto pallone? Riesce a recuperarlo? Portiero. No. Mamma mia, cosa stanno per subì, signori. Mamma mia, cosa stanno per subì. Certesemente... Perché non riesco ad andare sulle... Ma che cazzo sta a pia al 2-0 subito? Gravissima questa cosa, Giorga. Guardalo, guardalo lì su... No, ma no, ma non così. Non così, mannaggia a te. Va bene, va bene. Che è 1-2 pericolosissimi, ma riusciamo a uscire. Esfimas, Esfimas, al 27esimo. Dai, 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 dai. Accendi, no! Ok, guarda bene lì. Sarà una stagione lunga e sofferta, signori. Valerix, Simenas si fa anticipare. Ma porca, ma porca. Su le gambe, su le gambe. Su le gambe senza fallo. Su le gambe senza fallo e fuori in gioco. Sio, però, dai. Sio. Roman ha calcio d'angolo. Roman ha calcio d'angolo la battuta centrale. Roman! 31esimo del primo tempo, Giorga. 31esimo del primo tempo. Stiamo sotto 1-0. Non è un'ottima situazione questa. Riusciamo a trovare un gioco con un compagno libero? Vai, Spimas. Vai, Spimas. Bravissimo, Spimas. Grande, Spimas. Fermati. Questo è fallo, vero? Arbitro. Arbitro. Non era solo rimesso a terra. Arbitro, mi ha stroncato una rotola. Vai, vai su quella fascia. Mannaggia a te. Grandissime, Spimas. Grandissime, Spimas. Crossala, crossala, crossala. Cosa fa? Dorme. Cavolo fa, ho detto. Ho detto cavolo fa. Ho detto cavolo fa. Non mi mettete in bocca parole che non ho detto. Oh. Ah sì, che fa? 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 3-4. Attenzione. Attenzione, è buona. È buona. È buona. È buona. Crossala, crossala. Bravissimo, bravissimo. Tirala. Sto un attimino impazzendo. Calma. Calma, 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 calma. Mi dite come cavolo si tira. Stiamo crescendo, signori. Mancano 5 minuti, ma stiamo crescendo. Vaci Spimas, vaci Spimas, che sei tutti noi. Dove cazzo lo lavai? Spimas mio. Dai, porca miseria. Porca, porca miseria. Spimas mio. Dove cazzo lo lavai? Sei tutti noi e poi te ne vai fuori. 42esimo. Cavolo, cavolo, cavolo. Stiamo crescendo, stiamo crescendo. Abbiamo avuto delle buone occasioni che non siamo riusciti a sfruttare. Però attenzione, attenzione. Ballotta, 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 ballotta. Crossala, ballotta mio. Questo dovrebbe essere il cross, no? Questo dovrebbe essere il cross. Grandissimo, Miranda. Grandissimo. No, era fallo. A palla lontana, mi ha stroncato la carriera. Via, via sta palla, via sta palla. Minuti di recupero. Minuti di recupero, minuti di recupero, minuti di recupero. Miranda, 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 Miranda. Grandissimo per Spimas. Mi sa che c'è lì, mi sa che c'è lì, Spimas. Le gambe, sulle gambe, sulle gambe. Prima che butto fuori, è Spimas. Dai, dai, recupero sta palla, recupero sta palla. Va bene, calma, calma, calma. 1-0 da finire il primo tempo. Ma abbiamo giocato bene, abbiamo giocato bene. Abbiamo giocato bene, formazione. No, dai, continuiamo così, continuiamo così. Mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono. Dobbiamo solamente crescere meglio nell'organizzazione della partita. Mannaggia, perché mi hai cambiato il cosino? Maledetto che non sei altro. Perché mi hai cambiato il cosino? Calma, calma. Ma chi, ma chi sta palla? Gliela è restituita. E quello è più riuscito a crossarla. Meno male che c'è Ivano. Meno male che c'è Ivano. Ivano, passano. Senza fare cretinate, cortesemente. Grazie. Dai, 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 dai. Vai, Ximenes, vai, Ximenes. Vai, Ximenes, su quella fascia è tutta tua. Vai, Ximenes. Vai, Ximenes. Quelle cazzo da vai, Ximenes mio. Va bene, questi saltano tutti e due a voto. Ci arriva quello mio? No, è fuori, va bene. Rimessa mia. Rimessa mia, rimessa mia. Camma, 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 camma. Senza problemi, senza paura. Con camma, giochiamolo, giochiamolo. Bravissimi, bravissimi. Uno, due, veloce. No, ma perché sta palla giocata lì? Mannaggia a voi. Facci, 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 facci. Intervieni, intervieni. Deciso, deciso, porca miseria. Deciso, bravissimi. Bravissimi, bravissimi. Dai, dai, dai. Calma, calma. Calma, 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 calma. Temeri, temeri che lui vuole crossare. No, no, lo facciamo crossare. Bravissimo. Sì, però evitiamo di giocarla troppo vicino. La nostra aria, questa palla. Grazie mille. Grande Spimas che è partito. Grande Spimas che è partito. Fatela tutta, Spimas. Fatela tutta, Spimas. No, faccia, faccia, Spimas. Ho due stendi che non è che sono lenti. C'è due luma che sarebbero molto più veloci di loro. Calma, calma, calma. Guardalo, 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 guardalo. Bravissimo. Parti, parti, parti. Buono, signori, ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Abbiamo la possibilità di un cross. Abbiamo la possibilità di un cross. No. Cosa cazzo non l'abbiamo fatto? Cosa cazzo non l'abbiamo fatto? Ma di sicuro ho capito come si cross, signori. Di sicuro ho capito come si cross. Mannaggia, mannaggia. Calma, 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 calma. Aprile di nuovo, aprile di nuovo. Grandissime Spimas. Grandissime Spimas. Grandissime Spimas. Calmati. E fallo. Va bene, non è stato operato. Dai che il nostro, dai che il nostro. La possiamo pareggiare, signori. La possiamo pareggiare. La possiamo pareggiare. Grande così. Grande così. Incursione. Non possiamo, non possiamo perdere la prima partita dei soldi, signori. Non possiamo perdere. Dagli, dagli labbra. Bellissimo. Corri, corri, mannaggia. Corri. Grande balotta. Da che cazzo l'abbiamo? No, è riuscito. No, va bene, va bene, va bene. Basta che lo teniamo noi. Calma, 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 signori. La Roma, la Roma è salita di intensità. La Roma è salita di intensità, signori. La Roma è salita di intensità. Ecco, facciamo le cagate. Ci emozioniamo. Ci emozioniamo e facciamo le cagate. Calma, calma. Stroncalo. Bravissimo. Grande così. Stromer, 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 Stromer. Miranda. Miranda vede Spimas. Spimas però è solo solito. Non può fare nulla. E Spimas si giro dal lato sbagliato. Mannaggia. A te, Spimas mio. Calma, 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 calma. Mamma mia, nello stretto la Roma. Fa paura nello stretto, signori. Macchi, macchi, sta palla. Mamma mia, mamma mia, come sto sclerando. Mamma mia, calma. Recuperiamo il pallone, signori. Serie confuso della partita. Serie confuso della partita. Non possiamo pigliare il secondo gol. Dito. Divieto assoluto di prendere il secondo gol. Giusto ora che stiamo crescendo. Via, 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 via. Top. Trentatresimo. Trentatresimo. Rimessa del portiere. Cosa cazzo? Loro mi ha fatto fare. Calma, 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 calma. No, mannaggia. Ero riconquistata sta palla. Si stanno facendo presto. Calma, 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 calma. No. Sì, però il gioco è buggato, signor. Taglie, cazzarola. Niente, sto riconquistare le palla. Ok, fuori gioco. Trentasei, sono trentasei minuti per pareggiarla, signori. Non dico vincerla perché è impossibile, però trentasei minuti per pareggiarla ci posso stare. Valeri, attenzione, Valeri è partito lui. Valeri, 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 in profondità. Per Ximas. Ximenes. Come cazzo lo tagliami? Mannaggia. Dai che fuori, dai che fuori, dai che fuori che si... Dai. 5 minuti, signori. Gli ultimi 5 minuti. Gli ultimi 5 minuti. Gli ultimi 5 minuti di partita. Gli ultimi 5 minuti di partita. Dai, 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 dai. Prova, ci prova, tu provaci, tu provaci. Madonna mia. Sono abituato a caricare tutto. Non andava caricato tutto, mannaggia, no. No, ci avevo lasciato l'occasione del pareggio. No, vabbè, gli stiamo facendo andare in porta, signori. Cioè, un po' di concentrazione. A chi? A chi sta cazzarola di palla, mannaggia a te? A chi? Devo prenderci un attimino la mano e non è per niente... Uff, dai, 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 fuori, 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 fuori. E' un jury time. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo il tempo per l'ultima azione. Ce l'abbiamo il tempo per l'ultima azione, signori. Ce l'abbiamo il tempo per l'ultima azione. Crediamoci, 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 mannaggia. Niente. Allora, esordio che non va per niente bene, signori. Esordio che ci porta alla prima sconfitta in campionato contro il Rio de Janeiro. Mi aspettavo qualcosina in più, però va bene. Gol di Felipe al 18esimo. Abbiamo tenuto il campo, abbiamo avuto delle buone occasioni. Ho capito finalmente qual è il tasto per tirare e qual è il tasto per crossare. Però va bene. Devo 20 punti in totale. Punteggio totale 20 punti. Punti 20, 0. Punti basi 0. Punti bonus 0. Bene. Partiamo benissimo. Siamo? Sesti. Ok. 0, 0 punti? Punti sì, 0. Insieme al West Ham, alla Parma, al Parma e alla Fiorentina. Bene. Dei due signori io per questo primo video catastrofico vi ringrazio. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Vi ringrazio per i like e per i commenti. E noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bella raga. Ciao.